Una visita sorpresa al termine dei lavori del Sinodo. Così Papa Francesco ha voluto salutare uno ad uno ieri sera verso le 19 i senza tetto ospiti del nuovo dormitorio inaugurato nei giorni scorsi dalla Elemosineria Apostolica in via dei Penitenzieri, nei locali messi a disposizione dalla Curia Generalizia della Compagnia di Gesù. Accolto dalle Elemosiniere Monsignor Konrad Krajewski, dal Preposito Generale dei Gesuiti Padre Adolfo Nicolas e dalle tre suore che svolgono il loro servizio insieme ai volontari, il Papa ha voluto ringraziare i 30 ospiti del dormitorio in gran parte italiani per aver accettato questa casa. E i senza tetto, salutati uno ad uno dal Pontefice, lo hanno ringraziato perché finalmente hanno un letto su cui dormire. Qualcuno ha raccontato brevemente la sua storia e molti hanno chiesto una benedizione. Papa Francesco ha poi voluto visitare tutta la struttura del dormitorio, denominato Dono di Misericordia, che si trova nelle vicinanze dell'ospedale Santo Spirito ed è stato aperto il 7 ottobre, nella memoria liturgica della Beata Maria Vergine del Rosario. La comunità dei Gesuiti ha così voluto rispondere all'appello del Pontefice di destinare dei propri fabbricati alle persone in difficoltà e il Papa Francesco ha ringraziato i Gesuiti per aver preso a cuore così prontamente il suo invito. La struttura può accogliere per la notte fino a 34 uomini che saranno ospiti a turno per un mese e viene gestita dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, come quelle di Via Ratazzi, in zona Stazione Termini, e a San Gregorio al Celio. Tutti i lavori sono stati finanziati dalla elemosineria apostolica, cioè attraverso le offerte che provengono dalla distribuzione delle pergamene con la benedizione del Papa e dalla generosità dei cittadini.